Le persone non nascono tutte uguali. È così figo! Anch'io, quando avrò un quark, voglio essere come lui! Non succederà, ragazzo. È un iro super incredibile. Potrei mai diventare anch'io come lui! Ehi, Deku! Sei un perdente di merda senza quark, cosa credi di poter fare? Anche se non un quark, posso diventare un iro? Una persona che non possiede un quark, può diventare come te? Anche tu puoi diventare un iro. I più grandi iro sono entrati nella storia sin da quando erano studenti. E le loro storie avevano una cosa in comune. Entravano in azione. Ancor prima di pensare. È stato così anche per me. Deku! Il mio cuore è stato passato come una fiaccola olimpica. E il suo nome è Juan Foro. E il prossimo avvicino. Potresti essere qui. Io non sono più un tuo bersaglio. Devi capire che sono diventato... E il suo nome è Juan Foro. Sono diventato il deco che lotta fino all'ultimo. Tutti quanti stanno facendo sul serio. Per vincere. Per raggiungere i propri obiettivi. Per diventare i numeri uno. Affrontami con tutte le tue forze. Non avere paura. Non ho altra scelta se non combattere e vincere qui. Non c'è altro che tu possa fare. Il Zuko Midoriya. Unirò. È colui che riesce sempre. A fare a pezzi una situazione di crisi. One for all. Un milione per cento. Delaware. Detroit. SMASH! Toilet